Io sono Pax, sono una pittrice fotografa. Abbiamo fatto con Alphapart dei video su quattro storie di quattro ragazzi. Abbiamo cercato di raccontare queste storie approcciandole in maniera creativa diversa. Il momento in cui puoi affrontare un tema quotidiano come quello di lavarsi i capelli oppure di applicarsi un prodotto, da poterlo approcciare in maniera creativa riesce a raccontare le storie vogliendo lo straordinario nei momenti di vita quotidiana. Il tema centrale di Ascanio era l'equilibrio. E per me non c'è una maniera più bella di descrivere l'equilibrio che muoversi nella città come un uccello su uno skateboard. Davoletta con quattro ruote, un po' un'estetica anni 70, già bello di per sé. Il valore che abbiamo rappresentato per la storia di Emilio è il comfort. Lui è proprio una persona che emana una profonda serenità nello stare con se stesso, un sorriso al mondo della vita, per cui andare in giro con lui è stato molto carino. Spesso il valore dello stile può essere legato a una cosa più superficiale, no estetica, mentre Niccolò ha proprio racchiuso un significato molto più profondo, più bello. Per lui è fondamentale rimanere aperto in confronto delle altre culture, questo si vede nel suo lavoro. Il tema centrale di Marco era la forza, vediamo Marco che interagisce con questi personaggi un po' onirici. Entra come nel mondo dei sogni, è il momento in cui noi ci scontriamo con i nostri lati più nascosti. Ho proprio avuto l'impressione che lui fosse riuscito a trovare un giusto equilibrio tra le nostre ombre e la nostra luce. Grazie a tutti!